Montegrotto Terme alla fine ha chiamato i carabinieri nel cuore della notte una coppia di coniugi stremate impaurita dagli insulti e dalle minacce del figlio piombato in casa all'improvviso molto probabilmente ubriaco. L'uomo che ha diversi precedenti ora vive in provincia di Rovigo non si è calmato neanche alla vista dei carabinieri. E' stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.